Dopo questa superlativa prestazione, l'Inter è sempre più tua, è sempre più una cosa tua? Noi stiamo cercando di fare il possibile, è chiaro che anche noi siamo dispiaciuti di aver perso tanti punti, però il calcio è questo, quindi quando una squadra prova a crescere, a fare delle cose, può anche passare dei periodi dove gioca male o non rende al massimo. Questo è purtroppo stato il nostro momento, io spero che questa partita ci ridia consapevolezza e forza per raggiungere il terzo posto. Savien Iagobelli, buonasera signor Mancini, lei giustamente ha sottolineato come si è dispiaciuto per i punti che sono stati persi, ce ne sono però 33 a disposizione, alla luce di questa prova superba, che cosa si aspetta nella parte finale del campionato? Mi aspetto che la squadra adesso, dopo questa sconfitta che è rigore, che è molto deludente, perché comunque non ci vuole anche male, spero che veramente riabbia la consapevolezza di essere una squadra che ha anche delle qualità e che se è concentrata, come lo è stasera, credo possa fare ancora tanti punti. Grazie.